La neve non ferma i filosofi, potremmo dire benvenuto e auguri di buone feste alla professora Roberto Mordaggi, un filosofo al cinema, tra poco avremo la sigletta e ci racconterai professore i film che hai visto, insomma è stato un Natale interessante dal punto di vista cinematografico? Sì, ci sono diversi film interessanti oltre ai cinepanettoni, io parlerò di altri film e ce ne sono almeno un paio da vedere. E allora sigla e poi tutti i tuoi film, ci vediamo alla fine. Sigla Buonasera, allora i film di questa sera sono L'amore bugiardo e Lo Hobbit, sono appunto due dei tanti film in sala in questo periodo e sono due film intensi, molto diversi l'uno dall'altro. Allora, L'amore bugiardo è un film di David Fincher, un regista che in realtà ci ha abituati a film intensi, profondi e anche che colpiscono sia a livello emotivo sia a livello intellettuale, vi ricordo soltanto alcuni, Seven, Social Network, Fight Club, il curioso caso di Benjamin Button. Ecco, questo film L'amore bugiardo è sul rapporto interno ad una coppia, un uomo e una donna, che in qualche modo si gioca intorno alla loro diversa modalità di attuare il proprio potere, il potere al maschile e il potere al femminile. E Nick e Amy, che sono due giovani di successo, sono scrittori, hanno una certa, come dire, savoir-faire, appartengono all'alta società new yorkese, si trasferiscono per ragioni familiari nel Missouri e qui si svuotano. Qui la loro relazione in qualche modo perde la loro capacità di stare all'altezza della loro stessa intellettualità, ma al tempo stesso si lasciano trascinare in una routine che gli toglie proprio l'elemento che li teneva insieme. D'altra parte si avvia in questa relazione qualcosa che al di sotto della routine fa scattare il lato oscuro dei due personaggi. Allora, il lato oscuro del personaggio maschile è il lato di un maschio che non ha molta, come dire, volontà di potenza e la chiave niciana di lettura di questo film secondo me è importante. Cioè è un maschio che si adatta, si allinea alla morale di senso comune nel luogo in cui vive e poi anche all'immoralità di senso comune in quel luogo. Anomante, in qualche modo si lascia portare avanti e indietro, non trova lavoro, non si dà da fare per cercarlo e scatena nella moglie invece un tipo di reazione che è, di nuovo in termini ninciani, una vera e scatenata volontà di potenza che nel risentimento trova, e quindi nella vendetta, trova la sua chiave di volta. La moglie in realtà si svela piano piano essere una persona con una grandissima capacità di manipolazione, dei maschi in particolare, sia nel passato sia nel presente e abilissima nell'architettare la propria vita, la propria sparizione in modo tale che ne ricada interamente la colpa sul marito e che in qualche modo anche qualora lei non riuscisse nel suo piano, lei ne esca comunque vincitrice. E ha per questo, dalla sua, la capacità di usare tutte le armi a disposizione di una donna, che sono armi in qualche modo più raffinate di quelle a disposizione di un maschio, dove la cosa che si capisce è che Amy è capace di tessere in modo molto lucido una tela intorno al marito, in modo da intrappolare lui e chiunque altro unitamente al sistema dentro cui lei si muove. E in questa capacità c'è tutta l'astuzia di quella che appunto Nietzsche chiamerebbe una morale da schiavi, cioè entrambi sono asserviti alle regole del senso comune, asserviti a una sete di potere che ha bisogno di asservire qualcuno per sentirsi importante e al tempo stesso sono però molto abili nel far funzionare l'intero sistema, lei in particolare è molto abile a far funzionare l'intero sistema, a suo uso e consumo. Fincher è spietato nel mostrare questo lato oscuro al femminile, è spietato come lo sarebbe Nietzsche che era notoriamente misogino e che in qualche modo riconosceva nell'arte seduttiva della donna questa capacità come più raffinata che non nell'uomo. Bisogna dire che in questo Fincher non abbandona del tutto il suo personaggio Amy, perché da un lato ci mostra che Amy è vittima in realtà del delirio di onnipotenza dei genitori che ne hanno fatto il pretesto per una storia di successo che non è quella della figlia ma quella di un personaggio da loro inventato, la mitica Amy, questa è la vera loro figlia. Lei porta le conseguenze e il suo risentimento è chiaramente il risentimento verso i genitori, verso il mondo che deve essere come loro vogliono, che deve essere come si vorrebbe, come ha da essere. E lei è esattamente il contrario, lei in qualche modo scava dentro a un fondo oscuro dentro cui lei è regina in una forma di dominio. E questa però appunto è una forma di, come dire, di solo reazione, non c'è nessuna forma positiva, è fortemente distruttiva e incatenante. Il film è molto intenso, Fincher è molto capace di darci questo crescendo ed è un film che merita in qualche modo sia per lo scavo psicologico sia per il disegno dei rapporti fra i due sessi. Un film diverso, proprio di tonalità diversa, è Lo Hobbit, la battaglia delle Cinque Armate. Qui il regista è Peter Jackson, ormai è il terzo capitolo del prequel del Signore degli Anelli, cioè appunto il libro dedicato a Lo Hobbit. E questo è il capitolo che conclude la saga sullo Hobbit e già infatti introduce i temi e i personaggi che sono poi nel Signore degli Anelli. Su Tolkien si è scritto moltissimo. Tolkien è uno di quegli autori che ha fondato sostanzialmente il genere fantasy, è autore del Signore degli Anelli, dello Hobbit, e di questa ulteriore massa di appunti che è stata chiamata Sigmarillion e che fornisce come una cornice. I temi sono quelli epici. Tolkien si sa che voleva veramente scrivere una nuova mitologia, creare la nuova mitologia del mondo contemporaneo in un tempo che precede la storia e che si nutre dei temi tipici di tutta la storia umana e che quindi sono temi profondi. Ecco, la lotta fra il bene e il male, che è il tema classico, il tema centrale, qui è naturalmente raffigurata dalla guerra contro gli orchi, che sono il principio maligno nell'universo. Ma è interessante che tutti i popoli che fanno parte della saga in questo particolare episodio sono coinvolti in un gioco di ambiguità. I nani, gli umani, i mezzi uomini, cioè gli Hobbit, gli stessi stregoni, gli elfi, sono tutti attraversati dalla fragilità dell'essere esposti alla lotta per il potere, al desiderio di denaro, al desiderio d'onore, al desiderio di prevalenza. E gli orchi sono il lato cattivo in assoluto, ma non è che l'altra parte ci stia il bene, pulito, limpido e unitario. C'è qualcuno, tutti questi popoli, che in modi diversi, in momenti diversi, sono esposti alla caduta nel lato più negativo. In questo caso sono i nani, che sono attratti dal tentativo di conservare nel proprio potere la montagna incantata, la montagna solitaria, che custodisce il tesoro. Ora, questo tesoro è naturalmente il polo di attrazione, del desiderio di tutti i popoli, ma come si vede bene qui, le alleanze sono possibili. Ecco, in questo film, al di là delle battaglie, che sono meglio orchestrate che negli altri, sono meno noiose, io trovo, sono più efficaci dal punto di vista drammatico e anche scenico, ma al di là delle battaglie, in questo film ci sono temi diversi che emergono. Emerge moltissimo il tema della lealtà e della fiducia fra popoli diversi, fra personaggi diversi che hanno bisogno l'uno dell'altro, il bisogno di allearsi contro un nemico comune, la necessità di articolare le relazioni come le cose che sono tipicamente appropriate a coloro che possono vivere. Ecco, si potrebbe dire che la caratteristica che rende vincenti nani, elfi e uomini, e mezzi uomini che si alleano contro gli orchi è il fatto di condividere tutti loro, a differenza degli orchi, delle caratteristiche tipicamente umane, che sono quel misto di affidabilità e infidabilità, lealtà e slealtà, fiducia e sfiducia, amore e disamore, che gli orchi non hanno. Gli orchi sono stupidi da questo punto di vista, sono incapaci di quella felice ambiguità che in fondo è l'essenza, il fondo della libertà, della capacità di decidere, di stare ora dal bene, ora nel male. Ecco, queste caratteristiche tipicamente umane sono estese a tutti questi popoli, appunto ai mani come agli elfi, e in questo si vede la grandezza di Tolkien, la grandezza di non aver creato un mondo dicotomico, un mondo fatto esclusivamente di opposizione fra male e bene. Non è così, non è così. Il mondo è ambiguo e ne fanno parte tutti, persino gli stregoni sono in qualche modo sospesi nella capacità di stare nel bene oppure scivolare nel male. Questi temi sono molto profondi, Lobbit è uno dei film, è una delle saghe che più di ogni altra mette questi temi su uno sfondo mitologico ampio, ricchissimo, con un mulchio di rimandi, e il film questa volta è all'altezza, secondo me, del libro, e quindi conclude bene questa saga da parte di Peter Jackson. Sono due film diversi appunto da quelli tipici da cinepanettone in questo periodo dell'anno, ma sono due film che meritano di essere visti e che hanno contenuti interessanti per tutti. Grazie, buon anno, buon inizio d'anno e arrivederci alla prossima settimana. Grazie a tutti.